Oh no! Oh sì! Attento! Bilanciati! Io gli metto il porno, eh! Ecco qua! Ma è tutto tuo! Mestilo, non c'è sempre il palato! Dai! Continua così! Avanti! Guarda che è vicinissimo! Ehi! Stai andando alla grande! Guarda lì! E qua c'è arrivato! Non ce la faccio più! Bel bagno! Dai! Brigati! Mettiti fuori tra le chiappe! E basta! Avanti! Guarda su! Forza! Tirati su! Eccolo! Anche da dopo! Sì! Guarda così! Non ti muovere! Dai! Messo di te! Vieni! Ma non esci le chiappe! Eccolo! Oh! E non scappare! Tornati! Tornati! Non ci arriva! Non ti muovere! Non ti muovere! Guarda! Sto più! Io non sono la legge a vedere! Sto più! Tornati! Grande prova! Ho fatto uno scatto da velocista! È stato troppo divertente! Oh mio Dio! Perché non sai camminare sulla fune? Non lo so! Credevo che lo sapessi fare! Già! Non so che dirti amico! Comunque voglio imparare! Questo di oggi è stato il mio primo tentativo! Sono Ben Marcella e i miei genitori dormono di brutto! Adesso è mezzavotte e 42 e finita che andrà a lavoro alle 5 di mattina! Quindi si sta godendo il meritato riposo ma dovrà fare i conti con me! Andrini! 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 Sto morendo! Paccato a noi! Sto morendo! Avete visto che pancione ragazzi? Oh mio Dio! Anche lui deve alzarti alle 5 di mattina. Ehi, adesso devo essere al lavoro, alcive! Anche lui deve alzarti alle 5 di mattina. Cristo santo vero! Mi stavo rompendo la gamba per uscire! C'è tutto un casino! Come faccio ad andare al lavoro? C'è tutto un casino! Ehi, adesso devo essere alzarti alle 5 di mattina. Ehi, adesso devo essere alzarti alle 5 di mattina. Perchè? Allora! Che sta facendo? Dovrei farlo stare, signore. Mettersi la merce tra i vestiti. E' impazzito. Di cosa sta parlando? Si sbuote le tasche, andiamo. No, è roba mia. Rimetta a posto la merce. No, è roba mia. Mi sta prendendo per il culo. Cos'è questa roba, eh? Eh, eh, eh. Oh, eh. No. La mia balona. E poi adesso, vedete, vedete qua dentro. Adesso fuori. Anzi, prima si sbuote l'altra tasca. Accidente. E se ne va. Si tratta così, un povero vecchio. Ehi, un vecchio che ruba. Ma dove sei mai visto? Fuori dai piedi. Fuori. Oh, ma loro non ci siamo capiti, eh? Batta, ne ho detto. Parigi, l'abbiamo caducato. Che cazzo mi muoce il cervello? Fuori. 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 Ah, e smettere di giocare. Io ero l'amante di Loncelli. E le donne da lui e baciano in bocca. Entreremo in un negozio di ferramenta, quelli che vendono anche i cessi. E io farò la cacca in una di quelle tazze. Certo, il problema è che dovrò trattenerla fino a quel momento. Devi resistere, dì. Sì, perché non voglio fare una figura di cacca, devo resistere a tutti i costi. Ti scatta? Abbastanza. Davvero? Sì, ma quasi vorrei, non mi toccare l'ovine in la quarantena. Sì, sì, ma non prometto. Sì, in serio? Mi stai messo così male? No, no. È la prima volta che farei di me. No, no, mi sono beccato sotto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abbiamo anche un paio di articoli. Ma che stai facendo? Che stai facendo? Oh, mi scusi. Ho quasi finito. Spero che tu non ci abbia caccato veramente. Ti consiglio di tirarti sui pantaloni, figliolo. Dai proprio un valordo del caso. Che schifo L'ha fatta davvero quella meridaccia